Cari amici e colleghi, mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di sincera stima e vicinanza, benché circostanze impreviste mi impediscano di essere fisicamente presente all'evento Governare la complessità, stati generali della sostenibilità. Desidero esprimere il mio più profondo apprezzamento per l'impegno e la passione che il professor Massimo Lucidi mette nel perseguire obiettivi di sostenibilità e innovazione. La tua dedizione Massimo è la chiave per costruire un futuro più giusto e sostenibile per le nostre comunità e per il pianeta. Sebbene non possa condividere questo momento insieme a voi, il mio pensiero, il mio sostegno sono tutti con i partecipanti, con gli organizzatori e con Massimo ovviamente. Sono convinto che le discussioni e gli scambi che avranno luogo durante queste giornate saranno ricchi di ispirazione e porteranno a riflessioni profonde e azioni concrete. Invito ciascuno di voi a continuare a esplorare nuove idee, a sfidare lo status quo e a lavorare insieme per promuovere la cultura della vita, dell'innovazione e della sostenibilità. In attesa di poter condividere nel prossimo futuro, in prossimi incontri, dialoghi e dibattiti con voi, vi mando i miei più colorosi saluti e un abbraccio a Massimo Lucidi.